Dai Checco che apriamo l'uovo di Pasqua, dai! Apriamo questo? Sì! Cosa c'è scritto là? Aspetta che vediamo, cioccolato al latte con sorpresa! Oh! Ma com'è? Eh, un bel pesantino! Ah sì? Ma prova a muoverlo, sentire se c'è dentro... Cosa c'è dentro? Si muove qualcosa? Eh? Si muove niente? Ma che sarà il classico braccialetto oroloso? Dai apri, dai, capriamo, vediamo, dai! Una volta divergiamo anche mille potevoli uviti di Pasqua! Che bello che era! A te non ti tagli, eh! Se la fai io ti do una mano! Dai, ti do una mano io, dai! Tini! Ah, bravo, fai così, sì! Bravo! Piano che non si rompa, eh! Attento, perché è il cioccolato tenero, questo qua al latte, eh! Eh, tu lo guardi già, io non vedo niente! Vediamo! Mamma mia! Ma che cos'è? Una sorpresa! Una sorpresa! Ma fammi leggere la carta qua, cosa c'era scritto? Cioccolato al latte con sorpresa, no, con sorpresa! Con sorpresa! Ah, ho capito! Bene, bene! Anche la sua sorpresa! Fantastico! Tu hai toglie, non ti dici questi uviti qua! Ciao a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! ! Buona Pasqua!